Buon pomeriggio dalla redazione di E-Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede la cronaca giudiziaria e una sentenza della Corte d'Appello che fa tremare quella che è la giunta comunale di Calcinato, tre le condanne, una per il sindaco, l'altra per il vice sindaco e una per un assessore, quindi un ulteriore membro della giunta. I capi d'accusa sono quelli di aver discriminato due dipendenti comunali dopo la loro unione civile. Discriminarono due dipendenti che si erano unite con il rito civile sostituendole nelle loro mansioni. Per questo la Corte di Appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado e condannato il sindaco di Calcinato Nicoletta Maestri, il suo vice Mirko Cinquetti e l'assessore alla polizia locale Stefano Vergano a riportare la sentenza e l'agenzia ANSA. I tre sono stati condannati per il carattere discriminatorio, si legge nella sentenza, della loro condotta dopo l'unione civile di due dipendenti. Le due lavoratrici discriminate sono Federica Lombardo e Luisa Zampiceni, la prima ex responsabile dell'ufficio tecnico, la seconda ex comandante della polizia locale. Le due si sono sposate con il rito civile nel 2020 e successivamente sono state sostituite. La Lombardo guidava l'ufficio dal 2011 e nel 2021 l'incarico le è stato tolto a favore di una collega neoassunta. Una rotazione mai fatta prima e neppure dopo con un atteggiamento discriminante, scrivono i giudici secondo l'ANSA, che non viene fatta subito nel 2020 per non creare sospetti. Contestualmente una sorte simile è toccata alla Zampiceni. Secondo i giudici il comune inizia un atteggiamento discriminatorio attraverso la modifica della convenzione fra i comuni di Calcinato, Bovezzo e Lonato, costringendola di fatto a dimettersi. Rimaniamo nella cronaca, rimaniamo in provincia però a Bagnolo Mella, dove gli agenti della polizia locale hanno trovato un uomo che guidava senza patente, ma pensate lo faceva addirittura dal 2005. Guidava la sua auto senza avere la patente dal lontano 2005, ma ora è stato scoperto dalla polizia locale di Bagnolo Mella. Per ben 17 anni era riuscito a farla franca e a farlo cadere nella rete delle forze dell'ordine è stata un'altra mancanza, quella della revisione. Le telecamere poste in territorio bagnolese hanno infatti segnalato il transito di un'auto priva del collaudo obbligatorio e quindi gli agenti della locale lo hanno rintracciato e fermato dopo un breve inseguimento. A questo punto i controlli sono entrati nel vivo e non ci è voluto molto per scoprire la sorpresa che non era in possesso di una patente di guida. Dalle verifiche è emerso che l'uomo aveva subito la revoca della patente nel 2005, ma nel frattempo aveva continuato a guidare indisturbato. In realtà agli agenti ha dichiarato che era al lavoro per ottenere nuovamente la licenza e di aver da poco superato l'esame di teoria e di essere in attesa della pratica. Tutto ciò non è bastato evitargli una pesante multa di oltre 5.000 euro per la guida appunto senza patente, alla quale si è aggiunta quella per mancanza di revisione. Cambiamo decisamente argomento, entra sempre più nel vivo quella che è la stagione sciistica per quanto riguarda anche il territorio bresciano. Dal scorso fine settimana gli impianti si sono accesi per Ponte di Legno e Tonale, ad esempio, e fra l'altro domani aprirà un'altra attesissima pista, o meglio un altro attesissimo complesso di pista e si tratta del ghiacciaio del Presena. C'è ancora da attendere qualche giorno invece per il Maniva. Sta di fatto che nel frattempo i carabinieri hanno confermato il loro impegno nel compressorio dell'Alta Valle Camonica e saranno presenti, anzi erano già presenti lo scorso fine settimana, quando gli interventi di soccorso sono stati già ben quattro. La stagione sciistica bresciana è pronta a entrare nel vivo. Dopo il primo weekend il Tonale è pronto ad aprire anche il ghiacciaio Presena, ancora qualche giorno d'attesa invece per il Maniva, che dovrebbe accendere gli impianti il 15 dicembre. Nel frattempo in Alta Val Camonica è ripartito anche il servizio di vigilanza e soccorso dei carabinieri sulle piste da sci. I militari saranno impegnati, come negli anni scorsi, a vegliare sulle piste del comprensorio nel tentativo di prevenire gli infortuni o in genere comportamenti scorretti e pericolosi, obiettivo divertirsi in sicurezza. Vigilanza, ma come detto anche soccorso, durante la stagione 2021 gli interventi di questo genere erano stati in tutto 225 e nello scorso fine settimana ben quattro. Sempre nel 2021 i carabinieri della stazione di Ponte di Legno avevano assicurato sulle piste da sci, in aggiunta alle ordinarie e quotidiane attività di controllo del territorio, due servizi al giorno con l'impiego di quattro militari specializzati per comprensivi 130 giorni e quasi mille ore di attività per ogni singolo sciatore. Oltre all'alta valle, il servizio di vigilanza e soccorso delle piste sarà garantito anche nel comprensorio di Borno Monte Altissimo. Se nei giorni del Ponte dell'Immacolata pensate di andare in montagna, di andare a sciare, attenzione perché è attesa una nuova ondata di maltempo, anche in pianura ci saranno freddo e molte piogge, ma in montagna arriverà tanta neve. 8-9 dicembre, giovedì e venerdì, perturbazioni intensa presente sulla penisola iberica al momento, si muove verso l'Italia, sarà spinta anche da correnti di aria fredda che calano giù dalle alte latitudini e raggiungono il Mediterraneo, insomma, tra giovedì e venerdì netto peggioramento al centro nord, con piogge diffuse, tanta neve sull'arco alpino, fino anche a mezzo metro di neve fresca in alcune zone, anche a quote relativamente basse. E poi nel weekend peggiora anche al sud, la stessa perturbazione si sposta in maniera più decisa sull'Italia, appunto va a interessare anche le regioni meridionali. Quindi ci attende un Ponte dell'Immacolata, all'insegna del maltempo. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il periodo natalizio, si sa, è quello all'insegna anche della solidarietà. Sono tante le iniziative messe in campo dalle diverse associazioni del territorio. Sabato e domenica scende in campo anche Brescia Soccorso, lo fa con un presidio, con un'ambulanza in centro storico a Brescia. L'obiettivo è ovviamente quello di farsi conoscere, quello di raccogliere anche dei fondi che poi serviranno per le dotazioni di cui questo gruppo necessita anche per venirci in soccorso quando abbiamo necessità, quando ci troviamo in situazioni di emergenza. E questo aiuto si concretizza in un modo molto semplice, la vendita di panettoni. Sabato e domenica Brescia Soccorso in piazza, un presidio, diciamo così, con un'ambulanza in centro storico. Qual è l'obiettivo? Cosa ci troverà la gente che verrà a trovarvi? E ovviamente quando? Allora, ci troverete in centro, in piazza Bell'Italia, sabato 10 e domenica 11, dalle 14 alle 18. Saremo lì principalmente per far conoscere quello che è la realtà di Brescia Soccorso, ovvero una realtà completamente, anzi principalmente, di volontari e volontariato, che opera appunto sul soccorso sia di emergenza che comunque dei trasporti sanitari. sabato e domenica saremo lì e anche per, diciamo, raccogliere un po' di fondi che, come ben sapere, le realtà di volontariato faticano comunque ad andare avanti e quindi noi saremo lì con il nostro stand per la vendita di panettoni solidali in modo tale da poter raccogliere appunto qualcosa. Chi non potrà raggiungervi in piazza in questo fine settimana potrà comunque collaborare, insomma, darvi una mano anche nei giorni successivi. Come? Allora, sì, per chi volesse può contribuire tranquillamente, ci può scrivere tramite i social, la pagina Brescia Soccorso, principalmente su Instagram, dove noi adesso pubblicheremo giorno per giorno appunto un memorandum dell'appuntamento che ci sarà in centro. Per chi volesse comunque può scriverci tranquillamente in modo tale che ci si può organizzare e garantire un panettone per tutti. Un altro appuntamento immancabile con la solidarietà nel periodo natalizio è quello con le stelle di Natale dell'Ail che tornano a loro volta anche in questo fine settimana in realtà a partire proprio dal giorno dell'Immacolato in 197 piazze del nostro territorio di Brescia e provincia e in questo caso i fondi andranno a quella che è la ristrutturazione, il modernamento dell'ematologia del Civile è un progetto che in realtà sta già volgendo a termine e quindi vedremo anche in questo servizio quelle che sono le immagini il risultato delle varie donazioni. Ancora una volta le stelle di Natale e le uova di Pasqua il contributo del 5 per 1000 ai Bresciani ha creato un altro miracolo che è quello di mantenere la promessa e di consegnare ai malati e all'ospedale civile un nuovo reparto di matologia raddoppiato in termini di spazi con dei contenuti straordinari camere singole col bagno personale con una reazione sofisticata in modo che sia protetto anche dall'infezione opportunistica il malato una maggiore privacy e con la videosorveglianza e con la telemetria che sono strumenti per controllare da vicino il malato anche senza entrare e inquinare la stanza quindi questo progetto che portiamo in porto con grande soddisfazione si aggiunge a tutti gli altri progetti che Haile ha realizzato negli anni e che ha cambiato il volto dell'ematologia a Bresciana una motivazione in più insomma per tornare a cercare le stelle di Natale le stelle sono un simbolo che rappresenta assistenza rappresenta accoglienza accoglienza nelle nostre case di accoglienza quindi c'è appartamenti totalmente gratuiti a disposizione dei malati che vengono dappertutto a tutta Italia e anche dall'estero e la ricerca scientifica che è un altro elemento importantissimo noi abbiamo il centro di ricerca e degli sperimenti civili in cui noi investiamo ogni anno più di 100.000 euro nella ricerca scientifica ed è un elemento straordinariamente importante per aprire nuove prospettive di cura e di guaribilità per i malati che oggi sono decisamente cambiate rispetto a 21 anni fa quando nacque l'Aile di Brescia dove a Brescia non esisteva il reparto di ematologia oggi il reparto di ematologia grazie a valenti professionisti grazie all'apporto di Aile è il primo reparto in Italia in termini di afflusso di pazienti quindi è diventato un centro di attrazione veramente significativo per tutte le informazioni per scoprire ovviamente quando e dove trovare le stelle di Natale dell'Aile vi rimando all'articolo dedicato sul nostro giornale online www.laibrescia.tv con l'elenco completo dei prossimi giorni proseguiamo ora con il giornale parliamo di due diverse eccellenze bresciane da un lato ci sono quelle sportive lo sappiamo sono tante dall'altro invece quelle della tavola quelle mangerecce che Confagricoltura ha deciso di unire per una campagna di promozione molto speciale un binomio fondamentale questi sportivi hanno aderito da subito a questa iniziativa nuova iniziativa di Confagricoltura Brescia quindi siamo contentissimi sicuramente un'iniziativa che porterà i prodotti bresciani in Europa e nel mondo seguendo questi sportivi che sono davvero delle eccellenze bresciane e non da ultimo che hanno donato la loro persona e la loro immagine gratuitamente sì questo è sinonimo di quanto sono legati a Brescia e quanto davvero ci tengono che Brescia li segua nel mondo in tutte le loro prestazioni sportive la missione che era una forma gialla è andata però qual è il prodotto tipico preferito? beh devo dire che la forma gialla ne mangio in quantità industriali di prodotti tipici fortunatamente anche in terra bresciana io da bresciano adottato acquisito ce ne sono tantissimi e me li godo tutti i giorni adesso con qualche libertà in più da quando ho smesso di giocare mettiamola così ci guardo un po' meno però ecco anche in questi anni non sono mancati nella mia alimentazione che da sportivo è una cosa abbastanza fondamentale se si vuole avere anche una carriera abbastanza longeva come è stata la mia felice di far parte di questo progetto? molto felice molto felice perché lo trovo un progetto molto a fuoco con il momento storico c'è bisogno secondo me di socializzare a qualsiasi livello di promuovere questo tipo di iniziative di far capire alla gente ai nostri giovani che ci sono eccellenze vicino a noi spesso si ha l'idea che bisogna cercare lontano chissà dove qualsiasi cosa invece abitiamo in un territorio bellissimo e che offre tanto e quindi è stato per me un onore ovviamente quando mi ha telefonato Francesco subito accettato credo che sia un messaggio molto molto importante fatica rinunce sudore per arrivare a una qualsiasi eccellenza e con Cisola entriamo di fatto in quella che è la nostra pagina sportiva ricchissima anche in questo giorno infrasettimanale però lo sappiamo domani è festivo e quindi sono tante le rappresentative bresciane che scenderanno in campo per le rispettive discipline partiamo con il Brescia Calcio che gioca nella giornata di domani e dobbiamo spostarci sul nostro giornale online www.laibrescia.tv per leggere insieme quelle che sono le parole della vigilia del mister Pep Clotet e scopriamo anche il motivo infatti era in programma proprio per le 12.30 di quest'oggi la conferenza stampa di presentazione ma questa mattina insomma i giocatori tecnici del Brescia Calcio si sono trovati una sorpresa nel centro sportivo di Torbola e Casagli i cui campi erano completamente ghiacciati di fatto impraticabili e questo ha fatto slittare in avanti tutto il programma della giornata e di fatto la conferenza di Pep Clotet è saltata e nonostante ciò ringraziamo l'ufficio stampa che ci ha riferito di quelle che sono le dichiarazioni del tecnico catalano e il tecnico che riparte da quella che è la sconfitta 2 a 0 contro la regina e dice nessuno è felice dopo la sconfitta volevamo dare una gioia ai nostri tifosi in casa ma bisogna anche dare il merito a un avversario oggettivamente più strutturato di noi costruito per raggiungere la serie A detto il tecnico la squadra non è remissiva purtroppo il gol a freddo non ci ha favorito anzi la squadra non vede l'ora di riscendere in campo dice Clotet affronteremo una squadra insidiosa che lotta per la salvezza e giocherà con il coltello fra i denti noi dobbiamo scendere in campo nella stessa maniera e dare il 120% perché vogliamo fare bene non si può però nascondere che insomma la squadra del Brescia è in emergenza sul fronte degli infortuni rispetto a domenica le rondinelle recuperano Karacic che è ritornato dal mondiale ed è già schierabile rimangono però indisponibili Bisoli, Cistana Warholzer e Adorni che è squalificato le defezioni non sono un alibi ha concluso Peplotet ma bisogna essere realisti nel dire che purtroppo siamo in una situazione di emergenza perché anche se abbiamo recuperato appunto Karacic dovremo fare a meno di Adorni e allora vedremo domani anche quali saranno le scelte di Peplotet in vista della partita di Cosenza che ovviamente potrete seguire qui su e-live con Diretta Stadio in una nuova puntata proseguiamo ora con il resto dello sport e il basket in particolare che scende in campo nel tardo pomeriggio di quest'oggi alle 18 una sfida di Eurocup in trasferta in Lituania sfida molto insidiosa molto difficile lo sentiremo ma la Germani le proverà davvero tutte per provare a rialzare la testa nella competizione europea Brescia vola in Lituania per affrontare la quarta trasferta del girone di qualificazione della Seven Days Eurocup questa volta sul campo degli Etkabelis parte dalla cittadina di Panevezis a un'ora di distanza dalla capitale Vilnius la voglia della Germani di riallacciare il filo con il successo che manca dalla trasferta di Ulm dello scorso 26 ottobre e cancellare gli ultimi risultati negativi maturati in Europa dove le cose vanno diversamente rispetto al campionato italiano se in Serie A Brescia ha una striscia aperta di tre successi consecutivi in Eurocup sono tre le sconfitte delle ultime settimane maturate contro Burgen-Bress Clugi e Venezia vincere a Panevezis però e agganciare gli avversari in classifica sarà un'impresa tutt'altro che semplice il parquet degli Etkabelis infatti è un fortino difficilmente espugnabile lo scorso anno qui sono caduti team blasonati come Badalona Partizan Belgrado e Metropolitans 92 e quest'anno è ancora imbattuto la squadra allenata da Canac segue la scia della grande tradizione cestistica e rituana candidandosi a occupare una delle posizioni più nobili della graduatoria continentale poco dopo le 19.30 alla piscina di Monpiano sarà nuovamente tempo di campionato di serie A1 per la N Brescia che ospita una squadra a sua volta temibile come Savona e sarà un po' il match di cartello di questa giornata dopo la vittoria contro Bologna la N Brescia aspetta in casa Savona mercoledì alle 19.30 match di cartello alla Monpiano contro una squadra solida e che arriva da un momento positivo sia in campionato sia in Eurocup i Liguri nello scorso turno di campionato hanno superato Roma 13-9 e a Brescia vorranno sicuramente dimostrare il loro valore la squadra allenata da Angelini può schierare in vasca elementi di esperienza come l'ex di turno Rizzo ma anche giocatori che vogliono mettersi in mostra la N Brescia ha l'obiettivo di continuare a vincere in campionato e crescere ancora sul piano del gioco la difesa in realtà nelle ultime uscite ha funzionato coach Bovo e suoi però vogliono continuare su questo trend hanno cambiato tanto perché ci sono state parecchie partenze la presentazione di coach Bovo rimangono una squadra che gioca bene una palla nuoto veloce e un pressing importante sono organizzati e una delle squadre candidate a vincere l'Eurocup ma sono convinto entreremo con il piglio giusto in acqua si chiude qui questa edizione della telegiornale ma io mi ricordo come sempre che tutte le notizie le trovate in aggiornamento sul nostro sito internet livebrescia.tv eccolo qua sul quale trovate anche la diretta in streaming del canale 181 di e-live in questa piccola finestra e se tutte queste notizie le volete ricevere con una semplice notifica direttamente sul vostro telefono cellulare il modo migliore è quello di iscrivervi ai nostri canali telegram e live Brescia News ed e live Brescia Sport grazie per essere stati con noi continuate a farlo nel pomeriggio e poi ovviamente questa sera dalle 19 con l'edizione serale del notiziario nel frattempo non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast e Google Podcast